Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel, con noi c'è Riccardo Colombo, autore della rete 4-2, innanzitutto ciao Ricchi. Ciao, ciao a tutti. Io direi grande soddisfazione perché comunque la castellanzese oggi ha giocato veramente bene. Sì, sì, siamo contenti perché davvero abbiamo rispettato un'ottima partita, potremmo fare addirittura altri gol perché abbiamo avuto molte occasioni, comunque siamo contenti perché abbiamo ottenuto i tre punti, abbiamo appunto fatto una buona prestazione. Ecco Ricchi, siamo a inizio stagione ovviamente, abbiamo chiesto l'altro giorno a Gallucci, chiederemo anche a Picareda, un pochino da voi della vecchia guardia, deve arrivare un messaggio per tutti, per i tifosi, per i nuovi arrivati, raccontaci qualcosa Ricchi. Ma sicuramente da questi primi giorni posso dire che il gruppo è davvero ottimo, tutti si stanno integrando bene, si è visto anche oggi, siamo un gruppo molto unito e mi sembra che come base di partenza ci siamo. L'allenatore ci sta aiutando molto in queste prime settimane, quindi tutti i tifosi state tranquilli, fiduciosi perché la stagione sta iniziando col giusto piglio. Ecco, io direi la sensazione che abbiamo avuto rispetto alle altre castellanzese di questa targata ulisterata, sono solo due partite, però è una squadra che ha una determinazione agonistica sicuramente superiore. Sì, è vero, si è visto anche oggi, tutti i contrasti, abbiamo lottato, non siamo mai letti per vinti su ogni palla, appunto anche tutte le occasioni che abbiamo avuto sono frutto soprattutto della nostra voglia, della nostra determinazione di lottare fino alla fine. e appunto siamo contenti, ma al nostro tempo dobbiamo rimanere umili e concentrati perché siamo soltanto la prima partita ufficiale, quindi c'è ancora tanto tempo davanti. Ok, ringraziamo Richie Colombo, arrivederci. Ciao, ciao a tutti, grazie.